ore 8 e un quarto si apre il garage tutte le mattine è un piacere che si rinnova oggi cominciamo il 7-4-2 il nostro totem ci protegge la macchina è tutta qua accanto c'è la sorella minore il march 733 di carlo giorgio la sorella minore il march 773 di devil kennedy è in rialzo adesso dopo l'uscita di varano stiamo facendo pulizia la sorella minore 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 la sorella minore